Dei 166 giocatori approdati al Day 2 dell'Italian Poker Tour di Scena Sanremo, solo 37 hanno superato la giornata. Tutti i sopravvissuti sono già in demonei. Le posizioni premiate sono infatti le prime 49. Il chip leader è Oleksi Kovalchuk. Il russo domina con 850.000 chips con l'everage a quota 236.000. Curioso lo scoppio della bolla, Fabio Mangano e Vincenzo Ricchiutto sono finiti out nella stessa fase hand for hand e hanno così diviso 3.400 euro il 49esimo premio, consolandosi di non essere il bubble man. La lista dei pretendenti alla picca finale ha perso molti nomi illustri, su tutti quello di Luca Pagano. Chi non molla sono altre due stelle di Poker Stars, Dario Minieri e Salvatore Bonavena. Tra i volti noti avanza anche Marco Bognanni. Il Day 3 durerà fino ad avere gli otto finalisti. Dopo tre quarti d'ora di gioco sono rimasti in 30, tutti a caccia del Final Table di domani.